Il palinzesto di Italia 2 TV si arricchisce con la nuova sitcom La Clinica del regista Roberto Gasparro, protagonista inoltre dell'ultima puntata di Casa Italia 2. La clinica da oggi andrà in onda nel contenitore Vedi Video e Vinci, in onda prima dei telegiornali della nostra emittente. Nella sitcom La Clinica, al centro dell'attenzione, viene messa la sanità, quella pubblica, quella sanità malata che non ha mezzi, professionalità, valide e strutture adeguate, una sanità che zoppica, si arrangia a discapito dei cittadini che spesso nemmeno se ne rendono conto. Tutto ciò è trattato dal regista Roberto Gasparro con un'ironia tale da lasciare il sorriso sulle labbra, ma un sorriso amaro. Un invito alla riflessione dunque arriva dalle puntate della nuova sitcom che da oggi andrà in onda su Italia 2 TV. Grazie a tutti.